A ragazzacci, benvenuto, bentornati in questo nuovissimo video di Zotox Quest'oggi siamo nuovamente su Fortnite Perché, come ho sempre detto, regà, questo gioco mi fa impazzire Ma quest'oggi non sono da solo, infatti ho sempre portato video da solo Quest'oggi mi sto facendo aiutare da un mio amico di Ascension99 Ovvero alias Ivan Che quest'oggi però non parlerà perché, regà, vabbè, è un casino Lui praticamente mi aiuterà e io comunicherò con lui Travitevo, per telefono, vabbè, cacchi nostra Comunque, io direi subito di cominciare questa partita Speriamo bene Teoricamente Ivan è molto più forte del E perché io sono una gran pippa Speriamo di non fare figura di meta Andiamo col primo tentativo Io direi di buttarci tra... Allora, andiamo un po' più su Io direi in alto a destra, direi, eh Tra poco Io direi di andare verso N Andiamo verso N Così, eh, quasi, in quella cittadina Lì, se, non so se tu la vedi Comunque Gettiamoci là Speriamo bene, anche se c'è molta gente Porca miseria Vediamo un po', speriamo bene che Ok, io direi di buttarmi qui Che tanto non vedo nessuno Possiamo trovare qualcosa all'interno Anche se io già Forse ho visto qualcosa Un'arma, però un'arma di merda Però è meglio di niente Ok, ho trovato una mitraglietta con silenziatore Buono Meglio di niente Raccogliamola Vedi un po' qua che c'è sta Ah, ah, prendilo tu questo Prendilo tu Ok, benissimo Io prendo un po' di munizioni perché Ovviamente non c'ho un cacchio Io direi di andare Da qualche altra parte Andiamo verso la casa che si trova A NV praticamente Occhio che c'è sta qualcuno là A NV c'è sta qualcuno A 3.30 adesso C'è sta qualcuno Occhio Allora Si stanno già sparando Vedi in posto di resce a beccarlo A terra, a terra, a terra L'ho eliminato, l'ho eliminato Perfetto Andiamo a fregarci alla roba perché Però occhio che sicuramente C'è sta qualcun altro Quindi stai attento Io cercherò di andare Tu copri le spalle Oh Che cacchio è? Ho trovato una trappola Ok, vieni qui Ivan Sicuramente qua c'è sta Oh, no, no Porco, due Eh, Ivan Porco, due sei morto No, non ci voglio crede Oh Guardaci su No E' figura di merda Ho fatto schifo Arcao Siamo partiti Con il secondo tentativo Io non so dove Cavolo ci dovremmo buttare Vai Allora Andiamo verso Andiamo verso Sessanta, dai Speriamo di trovare una casetta Libera Porco Dove c'è sta qualcuno Qua dentro? No Dove cazzo stai? Dove sei Ivan? Non ti trovo Oddio Cambiamo casa Cambiamo casa Cambiamo casa Andiamo Io entro qua dentro Io entro qua dentro Vedete qui Assolutamente Oh che cacchio sta facendo Sto sbrogato Che cosa ho trovato? Oh, bello Pompa blu Pompa blu Sì, te seco, dai Entriamo dentro sta casa Vediamo un pochettino Se speriamo bene Oddio Dai, per forza Oh, sento una cassa Sento una cassa Da qualche parte Oddio, sto sentendo una cassa Secondo me Sta qua su Porco due E mo se la distruggo Rosico Non riesco Che palle Come faccio? No Non ce la faccio Aspetta Fammi sfondare sto muro Così magari ce la dovremo fa Andiamo un pochettino Ok Oh, in modo che ovviamente ce la fanno Casetta Ok Bene Adesso toccherebbe Su un'acqua Su Ok, bravo No, non penso Non penso Che ci sta la cassa Ci sta la Ah, è questa Porco due Tutta sta cassa De legna a mezzo Ah, io l'ho fatta A posto Quell'arma Piatele a te Anzi, no Piatele questa Piatele questa Che tanto è in pompa Io ce l'ho Ce ne andremo da qua Perché Se vedono la casa distrutta Sicuramente si raccorgeranno Che io e te Siamo stati lì Andiamo a setacciare Qualc'altra casa Siamo già nella zona protetta Buono Oh, qua dentro Forse c'è qualcosa Vedo qualcosa di blu Oh, forse è pure qualcosa di ola Buono Pozza Oh Io adesso sento una cassa Nel quale la pezza Ti sta riducendo Ok, vedi un po' occhio Stai attento Ok, entriamo dentro sta casa Che è Ah, è chiusa Buono Ok, quello là Buono, prenditola te Che ce l'ho Fugge la pompa Tu ce l'hai fuggito la pompa Sei, prenditolo Tutti serve Ok Ok, allora Prendiamo questo fucile a pompa Eh, un'armata lontano serve Qua c'è un'altra pompa Tutti pompa troviamo Oh Porco due Firmati Ho trovato la super La pozione Viola Ok, ce ne possiamo anche andare da qua Secondo me Andiamocene da qua In modo che sto molto attenti Oh, qua sopra ci sono delle armi C'è sta qualcosa Qua sopra Però sta No, no Niente 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 Questa che è Una cassa No Sono i feri della macchina Bene L'abbiamo confuso La cassa Con i feri della macchina Eh, non lo voglio Oh, qua ci stanno armi Oh Che cacchio è? Ah, non è Oddio, sembrava leggendare Comunque fucile assalto Scarico E una pistola blu No, ma no Non c'è che sta Siamo 42 Siamo ancora 42 Oh, occhio Che cacchio è? Ah, no, no Non hanno costruito niente Ok, se No, no Se hai ristretto l'occhio Quindi mori Erano tutti qua dentro Stai attento Oh, calcola Sulla montagna C'è sta qualcuno Perché l'hanno costruito Eh, su SV Su SV C'è sta qualcuno A 255 Ci sono due persone Aspetta che io Provo a vicinare Aspetta No Mi stanno a sparare Mi stanno a sparare Aiuto Aiuto, aiuto Mi stanno a sparare Dove stanno? Eh Sì, sì, sì Dammi, sì, dammi, sì Dammi, sì, dammi, sì, male Porco due Meno male che c'ho lo scudo Sennò questi qua Mi ammazzavano del brutto Occhio, eh Porco giuda Vedi che cominciano Le cose brutte Allora Qua ho trovato Delle munizioni Bono Una cosa La 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 pozza Sì Perché sento le cassi Porco due Mo distruggo qua su Vediamo un po' Altro No Non mi dica L'ho distrutta Io non sento più niente Aspetta No, no Uno l'ho ucciso Uno l'ho ucciso Il problema è che ce ne sarà un altro Sì Morto Guarda questi che c'avevano Porco due C'erano Trova Oddio Sto cacca sotto Andiamo verso la zona protetta Oddio C'è qualcuno che sta a costruire là C'è qualcuno che sta a costruire Occhio Io ci vado addosso Non credo a niente Io non vedo nessuno Porca miseria No Porco due No Mi hanno giocato Mannaggia la miseria No Eh Non l'ho visto Ororio Non l'ho visto Ororio Beh ragazzi Quindi il video di oggi Si può concludere qua Sperate che vi sia piaciuto È stato abbastanza combattuto Però Vabbè Siamo arrivati Dari primi 18 Niente di Eclatante Però Vabbè Cercheremo di arrivare Prima Se il video vi è piaciuto Vi potete lasciare un bel like Commentare Condividere Iscrivervi al canale Se ancora non l'hai fatto Ringrazio io per essere stato In mia compagnia E noi ci vediamo al prossimo video Beh ragazzi